Elisabetta Canaris è riuscita a vaccinarsi contro il Covid-19, contro il coronavirus. È vaccinata comunque, come si legge sul web, la notizia è rimbalzata da una pagina all'altra dei principali quotidiani italiani che sono posti qua su internet, che hanno appunto descritto come Elisabetta che è stata una delle prime a essere vaccinate. Ovviamente lei vive negli Stati Uniti d'America e vi ricordo che proprio in America le persone vengono vaccinate con molta più facilità e con molta più, chiamiamola, semplicità, ripeto, rispetto a noi italiani. Quindi in America hanno dosi vaccinali probabilmente più elevate, hanno anche un modo di prendere il vaccino diverso secondo me rispetto a noi italiani. Però non sono mancate le polemiche per il fatto che Elisabetta si è vaccinata, è stata vaccinata, molti infatti l'hanno pienamente accusata, scrivendo anche delle offese secondo me barbine, gratuite nei suoi riguardi che secondo me non si merita assolutamente. Bene, questo è quello che penso, questa è la mia opinione, se è ben chiaro, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fornitemi la vostra opinione, ci tengo ad averla. Tanti auguri di buona vita a voi e tanti auguri alla bellissima e bravissima Elisabetta Canaris di buona vita.